Prosegue lo stallo a Palazzo Baronale. Dopo più di due settimane all'azzeramento della giunta comunale, deciso al sindaco Giovanni Palumba, Torre del Greco è ancora senza assessori. Difficoltà sulle nomine che evidenziano una profonda crisi nella maggioranza. Inevitabile il fermento tra gli schieramenti, chi per incentivare una rapida risoluzione della crisi, chi per approfittare e sferrare un colpo di grazia all'amministrazione Palumba. È proprio la maggioranza a fremere maggiormente, con gli otto consiglieri riunitisi in quella che hanno definito federazione. Affirma il consigliere Piccirillo, la nuova corrente ha chiesto al primo cittadino di svegliarsi e di convocare un consiglio comunale per valutare se c'è ancora l'appoggio di una maggioranza sui punti salienti del programma politico. Una richiesta che appare sempre più un vincolo di fiducia. Anche l'opposizione sembra caratterizzata da forti contraddizioni interne. L'esempio sono le conflittuali affermazioni del salviniano Luigi Mele. Inizialmente aveva cavalcato l'onda della crisi chiedendo le immediate dimissioni di Palumba e tirando fuori tutte le criticità che da sempre caratterizzano l'amministrazione. Poi, improvvisamente, nella giornata di ieri, Mele, insieme all'altro leghista Buono, ha manifestato di voler fornire il proprio appoggio al sindaco. Un dietrofront da cui la stessa Lega, a nome del segretario cittadino Maria Gabriella Palumba, ha preso le distanze, ribadendo di non condividere assolutamente gli intenti dei due consiglieri. Un'illuminazione sulla via di Damasco, così ha commentato l'ex sindaco Ciro Borriello, abbracciando i dubbi e le critiche del partito. Il chirurgo, dopo l'ironia, ha attaccato direttamente Mele. Nel frattempo i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Santa Borriello e Vincenzo Salerno, si sono scagliati contro il PD cittadino, accusandolo di immobilismo in una situazione tanto delicata. Salvatore Romano, segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, ha risposto chiedendosi perché accusare di immobilismo una forza politica che non è presente in Consiglio. Più diretto, invece, l'onorevole pentastellato Luigi Gallo, che ha ipotizzato una nuova maggioranza guidata da un sindaco a 5 stelle. Grazie.